ciao a tutti come va spero stiate tutti bene tutti quanti ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati per me ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato messaggi per sapere come stavo e niente ringrazio tutti vi chiedo scusa se non mi sono fatta viva prima ma è dura per me farlo anche oggi perché all'inizio vabbè pensavo che la cosa si potesse risolvere ma poi con l'andare del tempo mi sono non lo so i miei figli sono in italia stanno bene per fortuna ma il mio pensiero la mia testa è la tutti i giorni tutti i giorni parlo con loro mio figlio continua a dirmi mamma tranquilla non è niente ma lo fa solo per per farmi stare tranquilla loro sono preoccupati per me e io sono in ansia per loro e poi ci sono tutti quei morti guardo 3.000 telegiornali al giorno ci sono dei giorni che smetto e non guardo niente mi guardo solo ricette di cucina quel giorno che sono morte mille persone in italia sono rimasta seduta tutto il giorno sono rimasta seduta no non ho lavato un piatto non ho fatto niente piangevo solamente povera italia mi fa male proprio il modo in cui opera questo virus questa sta brutta bestia le persone sono sole muoiono da sole non possono neanche avere il supporto di una persona cara vicino e mi fa male perché sono italiana fiera di esserlo mi dispiace per tutto per tutte le persone italiane o non che sono state contagiate sono felice quando leggo che qualcuno è guarito qualcuno io spero dal profondo dal mio cuore che si trovi presto una soluzione una cura valida un qualcosa lo spero tanto e allora oggi è giusto ho detto tante persone si sono preoccupate per me mi sono straiata adesso sul divano e ho detto vabbè è giusto grazie mille per le persone che si sono iscritte non conoscendomi neanche magari grazie mille grazie mille qui ancora due settimane fa tre hanno messo tutti hanno chiuso le aziende e il presidente ha annunciato che tutte le persone che resteranno a casa da lavoro saranno pagate cento per cento però l'azienda aveva bisogno di me perché non ci sono tante persone che sanno cucire o tagliare e io non ho saputo dire di no perché per me lavoro è sacro perché ci ho messo tanto a trovarlo è un lavoro è il mio lavoro tagliare e cucire mi piace da morire e non ho saputo dire di no grazie e sono andata a lavorare lavoro tuttora ho fatto solo un giorno di riposo sempre lavorato perché c'erano tanti ordini e ho preso lo stesso stipendio che prende una persona che è rimasta a casa ma io non ce la faccio dire no grazie era un mio diritto e l'azienda mi ha detto è un vostro diritto non è che possono avere ritorsioni su chi dice no su chi resta a casa no però io non posso predicare bene e razzolare male potevo farlo mi hanno messo di giorno non di notte perché l'azienda è chiusa e lavorano solo dalle otto alle quattro del pomeriggio che poi io avrei il turno dalle quattro a mezzanotte e mezza e per me io venivo a casa non ero stanca non ero ero felice perché facevo il mio lavoro mentre alle volte di sé alle volte il più delle volte di sera sono addetta ai giochi all'assemblamento elettrico o montaggio della tefal perché di solito la cucitura la lasciano alle operaie della mattina che sono molto più numerose però non si fidano di tagliare perché hanno paura di sbagliare e non vogliono responsabilità per cui io la notte taglio e la mattina loro cuciono il poter fare tutto quanto gestire il taglio e il cucito mi dava soddisfazione sono andata e sono contenta di averlo fatto spero che voi e le vostre famiglie e vostri cari stiate tutti bene lo spero di cuore e anche se sono ripetitiva ve lo dico di nuovo spero che tutto questo passi per quanto riguarda gli avvenimenti per cui ho aperto il canale vi dico la verità ho staccato un bel po' ho staccato un bel po' e sono arrivata fino a che Chiara ha fatto la live dove con mille 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 offese descriveva il suo ex Giuseppe allora come 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 normalmente faccio voglio dirvi la mia allora che lei lo chiami essere immondo che lei in volte si tocchi il naso e si dice che gli prude il naso per far capire che fa uso di sostanze perché che abbia insultato Veronica in mille modi che abbia detto praticamente gli ha detto che è un cesso ma agli specchi di legno a casa ti sei vista e no cara no non cominciare con la storia del bullismo che sei obesa perché non sei morbida non sei curvi sei obesa gravemente obesa non è quello il problema perché tu saresti un mostro anche se pesassi 50 kg è proprio una cosa tua dentro non è non è il fatto del peso che che stabilisce se una persona è bella o brutta in base al peso no assolutamente no quello lo stabilisce quello che sei la tua anima e la tua anima ha stabilito che tu sei una bruttissima persona tu volevi denunciare Giuseppe per cosa non ti ricordi più quando l'hai accusato ancora quando lui non aveva un canale che andava con uomini pur di avere i soldi per quello che gli serviva lo hai accusato di cose orrende lo hai sputtanato in tutti i modi e ora vuoi anche avere ragione un'altra cosa hai offeso Veronica in tutti i modi quando lei non ti pensa minimamente non ti ha mai nominato e non ha mai nominato il sorriso d'Urbans che hai vicino mai invece tu l'hai fatto perché forse ti rode ancora un po' che Giuseppe sia scappato a gambe levate senza il tuo permesso hai subito dopo come il tuo solito fare grandissima falsa hai cambiato rotta hai cambiato rotta quando hai visto davanti a te un enorme ostacolo hai cambiato allora Veronica era quella poverina bisognosa d'aiuto l'aiuto quella che viene picchiata ma se lo sapevi perché non l'hai aiutata quella meba che hai vicino ha detto no è da infami chiamare i carabinieri ah sì invece lasciare una donna che tu pensi sia in grave difficoltà e che abbia bisogno d'aiuto perché da sola non ce la può fare cos'è mentre dopo era da infami prima ma quando tu hai dichiarato al mondo che chiamavi i carabinieri lunedì non eri più un infame allora tu pensi di essere meglio adesso io non so se sia vero o no che il tuo ex alza le mani non lo so non posso dirlo non posso giudicare perché a me hanno sempre insegnato che bisogna sentire le due campane io so che tu sei non lo so come definirti per per infangare le persone non mi viene la parola per modificare chat prove tutto quanto qualsiasi persona che si è allontanata da te era una bugiarda tu solo sei l'angelo della verità secondo te Giovanni Leto si è allontanato e tu hai cominciato a chiamarlo in mille modi offendendolo e logicamente dicendo che è un bugiardo Stefano uguale Blues Daniele uguale se non altro l'hai umiliato di fronte a tutti mettendo a conoscenza tutti delle sue difficoltà economiche che non sono una vergogna perché tutti ci siamo passati tutti tutti chi più o chi meno ha avuto delle difficoltà e non è certamente una vergogna la vergogna sei tu che l'hai messo in difficoltà e mettendo in difficoltà la meravigliosa famiglia che ha da quello che ho potuto vedere tu vali zero non è che quando parli degli Ethers o di Giuseppe dici il nulla mischiato a niente quella sei tu sei di un'ignoranza abissale tu e quell'altro ameba che ti sei sposata pensi che lui non abbia dipendenze eh forse non avrà dipendenze da cose da cose gravi da cose però è dipendente dai tuoi soldi è dipendente da te perché senza di te cara falsona dovrebbe andare a lavorare cosa di cui è pericolosamente allergico è allergico al lavoro il sorriso d'Urbans che è vicino sei una rovina famiglie lo sai e se non lo sai te lo dico io allora dopo Veronica cara teso amo i messaggi le chat vergognati vergognati perché se io sapessi che una mia amica cara o non cioè nel senso amica conoscente se fossi avessi solo il dubbio che venisse picchiata dal marito dal compagno da io l'aiuterei non mi sentirei un infame mi sentirei un infame a fare quello che hai fatto tu a voltarmi dall'altra parte oltarmi dall'altra parte senza senza muovere un dito solo per dire così non mi metto in mezzo e sono pulita no sei sporca fino al midollo fai schifo fai più schifo tu della persona che alza le mani tu pensa allora a che livello sei perché se fosse vero io penso che chi alza le mani vuol dire che non sa usare il cervello non avendo un cervello non avendo un cervello pensante non potendolo usare usa quello che ha a disposizione le mani e lo fa con una donna che pur essendo forte o non potrà mai avere la stessa forza di un uomo solo i vigliacchi alzano le mani contro una persona che sanno non poter essere al loro livello per difendersi pensa che livello sei tu nei miei pensieri e penso nei pensieri di moltissima altra gente non lo so veramente come fa la gente a seguirti non lo so quanti effettivamente ti seguono e quanti sono fake inventati da te perché ne hai tantissimi lo so perché anche nei commenti ci sono fake tuoi e del bradipo che hai vicino all'inizio quando ho aperto il canale il sorriso d'Urbans a 32 denti mi ha risposto e ha offeso me mia madre quando ho reso pubblica la cosa hanno cancellato il messaggio da stupidissimi e ignorantoni quali sono non sapendo che essendo il canale mio nelle notifiche resta il messaggio quando l'ho reso pubblico hanno cancellato il messaggio aveva scritto proprio con Davide e Chiara Channel e non ha più fatto l'ha fatto sempre con fake ma siccome sei ignorante che ti avranno bocciato dalla prima alla quinta elementare e ti avranno buttato fuori a calci in culo si capisce che sei tu perché non sai neanche scrivere in italiano una frase una frase piccolissima non la sai scrivere in un italiano corretto per quanto riguarda lo scuppone che avresti fatto uscire mi scappano tante parole in italiano mi viene in francese perché parlo tutti i giorni approfittando del del caso che era uscito che forse Giuseppe avrebbe alzato le mani contro Veronica hai fatto uscire lo scuppone che il il giusto non sei tu allora volevo dire a chi a chi è nuovo magari agli haters che mi seguono a quelli che credono a Chiara che mi seguono volevo far capire una cosa non è che io dico e che tante persone come me condividono che lei sia il giusto lei non è il giusto ma lei è la voce di quei video che ha fatto insieme a quell'altro a quell'altro rifiuto del giusto la prova che quell'essere ha dato che lui era lui la voce ma non è la stessa voce del video ascoltatelo bene per favore lui ha imitato solo la voce di Chiara nel video e non ci è riuscito neanche bene ma la voce dei video di quell'essere è chiara perché ci sono delle parole che sono inconfondibili è proprio lei che le dice specialmente quando dice perché tutti questi dislike ascoltate bene e vedete quando parlo a lei per cui a me e a tantissime altre persone che la pensano come me quel video non ha fatto neanche un pelo di freddo zero e lasciamo perdere vi ho detto che non guardavo più i mukbang e io una sola parola quando li riguarderò ve lo farò sapere perché per me sono solo schifezze con titoloni a chiappa views solo per attirare visualizzazioni perché mette adesso non mi ricordo non ne ho visti neanche uno ma sono sempre i soliti i soliti a quando la nuova pesata non dirmi che per il coronavirus adesso non ti pesi più perché se fai mukbang se fai i video spesa se fai video insulsi quali potresti fare anche la pesata o no adesso è passato un po' di tempo dalla prima finta pesata perché non pesi 149 chili non pesi 149 chili ripeto non me ne può fregare di meno se anche arrivi a 250 a me da fastidio solo il prendere in giro le persone allora se hai deciso mi peso in diretta con voi perché prendere in giro le persone la linea che cade misteriosamente la bilancia che non ti prende il peso perché superi abbondantemente i 150 chili io ho un problema un problema che tanti mi dicono scherzando è un problema serio lo so il mio problema è che penso che tutte le persone siano come me e non è così il fatto che qualsiasi ingiustizia io mi faccia prendere dal nervoso che mi prende lo stomaco è un problema e anche il fatto che sentivo la segretaria che chiamava le persone perché aveva c'erano degli ordini urgenti da smaltire e le persone dicevano no mi dispiace ho il diritto di restare a casa e resto a casa e dicevano non è giusto perché adesso c'è lavoro e se non ci fosse lavoro quelle stesse persone che hanno rifiutato di andare a lavorare sarebbero in prima linea in prima fila per fare scioperi per fare manifestazioni per il lavoro perché è un diritto sì ma il lavoro è un diritto sacrosanto per ogni persona però il diritto il lavoro comporta dei diritti ma anche dei doveri e questo lo dimenticano tante persone quando gli fa comodo per cui lo stesso lo stessa rabbia viene a me quando vedo persone che hanno sessantamila iscritti metà dei quali sono comprati o fake comprati tanti comprati ne hai comprati tanti ne hai comprati tanti e e il canale con la scusa che è youtube e intrattenimento e allora si può prendere in giro la gente no mi dispiace non ci sto non ci sto io ho sempre detto ho sempre detto c'è un motivo perché non mi sono mai fatta vedere dall'inizio ho cominciato un po' adesso perché lo schermo nero dà fastidio anche a me ma per me la mia famiglia è è la cosa più sacra che che esista per me specialmente i miei figli specialmente i miei figli e ho visto tante cose qui su youtube gente senza scrupoli senza umanità senza coscienza proprio come degli squali proprio come quello che dico io sempre mai sanguinare davanti agli squali mai perché se solo solo provi provi a fidarti provi a confidarti provi a ti mangerebbero viva perché sentono l'odore del sangue a migliaia di chilometri di distanza e allora no mi dispiace ve l'ho detto tante volte se io raccontassi quello che ho passato io ma fin dai primi anni di vita adesso ad oggi che sono qua sul divano non avrei 65.000 iscritti ne avrei il doppio ma a che prezzo a che prezzo no fino a questo momento che è il 5 marzo 2020 la mia dignità ha ancora un valore no tanti dicono eh arrivati i 1.000 iscritti cambiano tutto la monetizzazione beh io vi posso assicurare che non ho preso un centesimo e lo posso giurare su Dio e vedete anche voi non è che mi accanisco coi video coi video per fare no perché ve l'ho detto per me la vita reale è il lavoro che ho trovato e ringrazio Dio tutti i giorni per questo lavoro è quella la vita vera i problemi le carte i documenti tutto quello che ho dovuto affrontare e non ho ancora finito per cui quelli che mi scrivono sotto la monetizzazione i soldi io non rispondo neanche anzi scusate se non ho risposto a tanti messaggi vi prometto che in questi giorni risponderò a tutti ho fatto le condoglianze a Marco in privato come giusto che sia ma voglio farlo anche qua non ci sono parole per il dolore che hai provato che stai passando per quello che è successo indipendentemente dalla causa della morte coronavirus o meno la perdita di un genitore la perdita di un genitore di un parente di una persona cara fa male e qualsiasi parola non potrà mai alleviare quel dolore io ti dico solo che ci sono un abbraccio forte Marco e che la terra gli sia lieve mi a te mi a te grazie grazie e tutte le persone che mi hanno scritto su instagram avevo due profili l'opale raro è il mio ne ho fatto uno solo però non riesco a togliere l'altro e ho detto vabbè lo lascio là e uso sempre quello che ho trasformato che era mio e ho trasformato in opale e che dirvi io adoro quando faccio i video dico ok domani ne faccio un altro però è difficile mantenere è difficile mantenere quello la promessa o specialmente in questi giorni non lo sono anche ieri ieri sera ho detto faccio il video ieri sera ma poi ho aperto youtube e ho visto le forze dell'ordine che hanno cantato l'ino nazionale per ringraziare i medici e non ce l'ho fatta mi sembra una cosa surreale ed è vero quando dicono che non saremo mai più quelli di prima perché se anche dicessero domani è passato tutto è finito il confinamento potete uscire perché chi si fiderà ancora di abbracciare un amico di dargli la mano di siamo diventate come ci hanno fatto diventare come io fino a una settimana fa perché perché qua grazie a Dio è ancora tranquillo al nord della Francia invece ci sono stati tanti morti non come in Italia o come in Spagna in questo periodo e le persone escono ancora senza mascherina con i figli anche oggi non tante però magari mezz'oretta una passeggiata e poi è tutto deserto io ho cominciato a uscire con la mascherina perché ho paura ma paura perché l'anno scorso non so se vi ricordate avevo un lavoro di poche ore alla settimana e durante le ferie estive mi hanno proposto di lavorare per guadagnare di più e io come vi ho appena detto ho detto sì perché guadagnavo veramente pochissimo e non mi permetteva con quelle ore di lavoro non potevo accedere a tanti servizi mentre quest'anno che potrei con le ferie c'è coronavirus per cui è da parecchio tempo che non vedo i miei figli ed è per questo che io spero spero Dio che tutto finisca veramente dicevo esco sempre con la mascherina ne abbiamo fabbricate quattordicimila per un cliente in azienda da noi e ogni mattina quando entriamo ci misurano la febbre e quando vedo quell'apparecchio con quel raggio rosso che mi tocca la fronte ho il terrore ho il terrore e quando la signora dice 26 28 gradi sono tranquilla dico grazie a Dio ci misurano la febbre ci mandano a lavare le mani ogni ora hanno staccato le macchine a due metri di distanza e ci hanno dato delle mascherine nell'ordine che abbiamo fatto c'era logicamente anche una parte era nostra per cui ogni giorno prendiamo la nostra mascherina queste mascherine qua sono durano quindici giorni e si possono lavare non riesco a respirare con la mascherina perché soffro un po' di claustrofobia e e anche se qualcuno mi facesse uno scherzo da dietro prima mi mettessi una mano sul naso reggerei molto male perché non respirando e dicevo esco da un po' con la maschera e vedi le persone ci sono persone magari senza mascherina camminano e ti sorpassano ti passano accanto ma ci sono persone che quando vedono me e un'altra persona si scostano dall'altro lato del marciapiede a me all'inizio questa cosa faceva male ma poi ho detto le capisco perché mica mi conoscono loro che grazie a Dio sono a posto però la paura c'è è tanta la paura perché questo virus oltre a essere un mostro orribile ti fa morire anche in un modo orribile per cui le capisco quando ho cominciato a mettere le strisce per terra anche al supermercato quando prima mi ricordo uno metteva le cose sul tapirulo e tu cominciavi già ad avanzare col carrello e mettevi le tue mettendo il divisorio adesso no aspetti che la persona abbia passato paga e poi andare avanti tu e ci sono le strisce per terra nell'attesa minimo un metro e mezzo i supermercati i supermercati quelli grossi che qua è aperto come in Italia solamente farmacie e supermercati e tabacchini tipo il Carrefour fa entrare le persone non tutte insieme ma a scaglioni per cui c'è la fila fuori e non mi andava di fare una fila di un'ora e sono andata lì dal ieri qua c'è una giornata stupenda ci sono venti gradi anche ieri la settimana scorsa invece faceva freddo freddo sembrava proprio inverno inoltrato un grado invece oggi venti in caldo è tutto deserto io vi auguro una buona domenica una bella giornata e che Dio vi dia la forza di superare tutto questo che lo superiamo tutti quanti veramente e che tutta l'Italia, Francia, Spagna, tutto il mondo che è stato colpito da questa cosa possa ricominciare ve lo auguro dal cuore spero di fare video al più presto vi ringrazio tutti dal profondo del mio cuore grazie a tutti grazie un bacione e a presto ciao